Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Locatop, il noleggio di casa tua. Noleggio, vendita e formazione di piattaforme aeree, sollevatori, autogru e muletti, anche coperture assicurative per cantiere e stradale. Assistenza tecnica diretta. Trova la sede più vicina a te su www.locatop.it. Al tuo servizio in regione e in tutta Italia. Locatop, il tuo partner ideale per lavori di successo. È pronta la direttiva del Ministero dei Trasporti sui limiti di velocità cittadini, che quindi disciplinerà anche Bologna 30. In sostanza, il limite dei 30 orari sarà legato solo ad alcune precise condizioni oggettive della strada, come la vicinanza alle scuole, l'assenza di marciapiedi o anomali restringimenti. Un confronto col Ministero può essere molto utile, avverte il Sindaco Lepore, ebbene partire però dalle corrette informazioni. Anche sul canale ufficiale Telegram del Comune di Bologna, i pareri contrari a Città 30 sono circa il triplo di quelli favorevoli. Tra chi appoggia il provvedimento, c'è l'ex ciclista Davide Cassani, mentre continua a fare discutere l'intervista di ATV alla gente della Polizia Locale, che critica il nuovo limite. Meglio il limite dei 30 dentro le mura cittadine, mentre sui viali di circonvalazione e fuori dalle mura, mantenere il limite ai 50 orari. È la proposta mediana di ConfCommercio Ascom Bologna. Le isole ambientali fuori dalle mura non solo vorremmo mantenere ai 30, ma valuteremmo anche la necessità di implementarle, dice Giancarlo Tonelli. Il car sharing elettrico bolognese corrente rinnova la sua flotta con le nuove auto Volvo, mentre al centro delle discussioni sulla mobilità, da settimane c'è il limite dei 30 orari, oggi è arrivato il lancio della 300 X30, la nuova vettura 100% elettrica di casa Volvo. È stato un tentato omicidio quello avvenuto in pieno pomeriggio in via Matteotti, un 17enne, è stato ferito gravemente accoltellato da un coetaneo che la polizia ha rintracciato e arrestato in serata. Sia la vittima che l'aggressore sono giovani tunisini, ospiti di una comunità per minori. Indagini in corso per scoprire il movente della lite e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Aspirnova Group progetta, costruisce, installa. Da oltre 30 anni Aspirnova opera nel settore dell'aspirazione industriale, progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbioleose prodotti da diverse lavorazioni. Li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica straordinaria. Le nostre mission sono salute, sicurezza sul lavoro, ambiente. Aspirnova Group, i sarti degli impianti di aspirazione. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di ETV. Anche stasera in apertura un'ampia pagina dedicata al tema di Bologna 30, al nuovo limite di velocità che sta facendo discutere molto in tutta la città e anche fuori dalla città fino a Roma. Il Ministero dei Trasporti infatti proprio oggi ha terminato di elaborare la direttiva sui limiti di velocità nei centri urbani su cui verrà avviato un confronto istituzionale. Il Ministro Matteo Salvini, che anche oggi è stato in contatto diretto con molti amministratori locali di tutti i colori politici, ribadisce l'impegno di collaborare per ottenere città più sicure. Salvini ha chiarito che va trovato un equilibrio, si legge testualmente, affinché non ci siano provvedimenti poco efficaci o addirittura dannosi, lo fa sapere il Ministero dei Trasporti. Secondo le prime indiscrezioni, questa nuova direttiva dovrebbe fare decadere tutte le vecchie ordinanze legando l'istituzione delle zone 30 a particolari condizioni oggettive delle strade, come la vicinanza alle scuole, l'intenso movimento pedonale, l'assenza di marciapiedi o restringimenti improvvisi. I dettagli di questa ordinanza, di questa direttiva, arriveranno nelle prossime ore. Oggi, intanto, su questa decisione del Ministero dei Trasporti è intervenuto il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Sentiamo allora cosa ha detto. Lavorare sulla sicurezza stradale è una priorità anche per il Ministero dei Trasporti e quindi la direttiva sulla città 30, annunciata da Matteo Salvini, può essere un'occasione di confronto per un lavoro maggiormente efficace per fare rispettare i limiti e raggiungere l'obiettivo di ridurre incidenti e mortalità. Lo afferma il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore. La scelta delle strade da portare ai 30 è stata fatta sulla base dei criteri che il Ministero finora ha dato, incidentalità e zone sensibili. Non è un caso, continua il Sindaco, che molte delle strade che tante persone stanno chiedendo di riportare ai 50 sono quelle con maggiore incidentalità e mortalità. Per questo sono state scelte. Un confronto con il Ministero può essere molto utile e bene partire però dalle corrette informazioni, avverte Lepore. Noi facciamo le sanzioni, lo abbiamo detto, nei luoghi sensibili. Quindi è sbagliato dire a livello locale e nazionale che la città ha le postazioni della Polizia Municipale dappertutto e che si stanno facendo centinaia o addirittura migliaia di multe. Questa è una falsa notizia. Noi stiamo facendo alcune multe al giorno, le stiamo facendo nei luoghi sensibili e le stiamo facendo con il lavoro della Polizia Locale, non con gli autovelox. E quindi io penso che questo confronto con il Ministro possa essere molto utile e bene partire dalle corrette informazioni però, perché se si descrive il provvedimento di Bologna come un provvedimento dove si stanno facendo multe a tappeto, dove c'è un caos del traffico giornaliero, si dice una cosa non vera. Direi che da ieri avete visto come la mobilità a Bologna sia regolare, non ci siano problemi e credo che questo debba essere una consapevolezza che tutti abbiano. Noi davvero facciamo un invito accorato al Governo a guardare quello che sta succedendo a Bologna perché quello che noi stiamo facendo sulla Città 30 e l'accordo che faremo con i sindacati e l'azienda sarà un'indicazione chiara di come bisogna fare anche a livello nazionale. Senza soldi per il trasporto pubblico e senza un rinnovo dei contratti nazionali tutte le città italiane saranno in ginocchio, non ci saranno autisti e non ci saranno più regolarità delle corse. Già stanno saltando in molte altre città, dunque invece che boicottare Bologna io penso che il Governo dovrebbe guardare a Bologna come un utile contributo perché noi stiamo arrivando prima dove arriveranno gli altri fra poco. E dell'argomento Bologna Città 30 si discute molto anche sui social e anche sui nuovi canali di comunicazione istituzionali. Proprio il canale ufficiale Telegram del Comune di Bologna sembra raccogliere le proteste di tanti cittadini. Sentiamo. Magari non sarà la prova del 9 perché i numeri sono pur sempre parziali e relativi ma seppur sul canale Telegram del Comune di Bologna i contrari alla città i 30 sono nettamente superiori in pratica il triplo rispetto ai favorevoli qualcosa dovrà pur dire. Basta infatti sbirciare da bravi smanettoni la suddetta pagina per accorgersi infatti che al momento della nostra visualizzazione tra faccine rosse dire e con la bocca tappata per non esagerare con le parolacce. Faccine che rigurgitano materia verde come nel film L'Esorcista e pollici versi, l'autostop a questo punto risulterebbe inutile perché si fa prima a piedi, ci giriamo attorno alle 1200 unità negative. Dall'altra parte invece tra cuori pulsanti, pollici da ok e battimani siamo nell'ordine dei 400 e passa gradimenti. Di più difficili interpretazioni invece rimasugli degli altri meme un po' come le liste d'appoggio dello 0,8% nelle elezioni tra hot dog, faccine che ridono, banane mezze sbucciate, balene di giorno a Pinocchio che dir si voglia e mani giunte imploranti si dovrebbe in sostanza interpellare un esperto di scrittura logografica antica. Insomma, mentre la battaglia politica impazza il Comune attende la direttiva del Ministero di Salvini per conoscere quali mediazioni portare al tavolo del confronto il grosso dei cittadini è piuttosto evidente come la stia pensando. A proposito di pareri su Bologna Città 30 prosegue il nostro voto interattivo accessibile dalla app di ETV che potete scaricare dall'Apple Store o da Play Store. Basta aprire la app, cliccare su Voto interattivo sotto la finestra dello streaming e da lì è facile poter esprimere la propria opinione. Anche sulla nostra piattaforma il risultato provvisorio è per ora piuttosto netto vicino al 94%, la percentuale di coloro che sono espressi contrari al provvedimento, intorno al 6% invece quelli favorevoli. Continuiamo a proporvi voci contrarie, qualche voce a favore del provvedimento Bologna Città 30. Il barbiere bolognese Dino Candelà che si trova in pieno centro in via De Carbonesi è nettamente contrario al punto che ha deciso per protesta di chiudere per una settimana il suo negozio. Sentiamo. Senta, lei ha deciso di chiudere il suo negozio per una settimana per protestare contro il nuovo limite dei 30 km orari a Bologna perché è questa decisione? Esatto, ho voluto dare un segnale un po' più forte alla città, il paese in cui vivo da molti anni e in cui credo mi piace vivere a Bologna. i 30 km orari senz'altro sono stata una scelta che il Comune ha fatto consapevole di quello che potesse fare con tutte le autorità per poterlo fare però forse non pensando che poteva creare dei disagi al paese e quindi di conseguenza le attività commerciali perché le attività commerciali sono molto importanti. Dal mio punto di vista andare a 30 km orari significa proprio non solo diminuire quello che è l'afflusso stradale ma anche l'affluenza di persone soprattutto al centro storico. Ci sono alcune zone dove come il centro storico vanno bene i 30 km orari ma al di fuori o nelle prossimità dove non ci sono scuole i 30 km orari mi sanno un pochettino una decisione fatta un po' forse troppo affrettata senza vedere e valutare realmente i danni che potesse portare. Difatti lo slogan mio è vai a 30 km orari, meno 30 km orari ma almeno 30% di economia nel paese. Ma l'abbiamo visto già dalla prima settimana che comunque c'è stata meno affluenza ma lo abbiamo notato tutti anche nella circolazione. E si augura che anche altri commercianti adottino questa protesta? Ma guardi, io penso che i fatti valgono più delle parole e spero che qualcuno appoggi questa mia idea, questa mia protesta è una protesta a fin di bene, a fin di bene per tutti i commercianti e questa settimana, come ripeto, voglio dare un segnale forte alla città. Tra l'altro posso dire anche che il signor sindaco è venuto qui dentro nella mia attività a farsi la barba è stato un piacere anche conoscerlo abbiamo fatto anche una foto insieme ma visto le lamentele di tantissimi clienti molto probabilmente dovrò togliere la foto perché sta iniziando a causare anche un problema. Non ci sono solo voci contro Bologna Città 30 tra chi si proclama invece a favore c'è l'ex ciclista professionista ed ex commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Davide Cassani oggi presidente dell'azienda Promozione Turistica della regione Emilia Romagna sentiamo dunque le sue parole Io sinceramente non lo so perché non sono di Bologna dico solo che se c'è un sistema per diminuire gli incidenti e le mortalità sulle strade io penso che bisogna prendere le considerazioni dal momento che già in diverse città quelle che hanno adottato Città 30 c'è stato un calo degli incidenti della mortalità del 25% io penso che può essere già questa una risposta a tutto quello che viene detto in questi giorni perché tutto quello che si fa per salvare delle vite umane secondo me è qualcosa di utile Pensa anche che possa incentivare l'uso della bici? Anche questo ma soprattutto io penso che il discorso delle Città 30 vada proprio nella direzione di salvare delle vite umane perché secondo me in Italia in questi anni si muove troppo Tra le voci invece contrarie ci sono quelle di chi si deve muovere quotidianamente per il lavoro sentiamo ora la testimonianza di un autotrasportatore Senta lei rifornisce distributore le macchinette quindi gira parecchio cosa pensa di Città 30? Penso personalmente che è molto negativo perché a mio parere personale non aumenta la sicurezza perché non è e aumenta il traffico che io posso anche tollerarlo molta gente può tollerarlo però per le cose più urgenti per delle situazioni che uno visita i medici cose che uno deve fare trova la tangenziale perennemente intasata che la gente evita di fare le strade normali per paura di essere beccata ai 36 che è una velocità io ho già una certa età 40 anni fa le macchine erano create ai 50 all'ora per frenare ci vuole un determinato tempo oggi i tempi sono pressoché dimezzati cioè i metri, il tempo che ci vuole il mio parere negativo spero che qualcuno si ravveda almeno in parte sul lavoro le sta creando disagi sul lavoro purtroppo si cerca di organizzarsi il più possibile ma i tempi realisticamente aumentano di un 30% in condizioni normali se poi succede un qualche imprevisto un incidente intangenziale qualcosa, cosa che succede non di rado e dopo c'è il caos più totale tra cantieri e viabilità sempre modificata sempre a stringere comunque non riesce a rifornire lo stesso numero di aziende che riforniva prima nello stesso lasso di tempo obiettivamente a oggi no a oggi la ditta cerca di venire in conto di stringere i giri cioè di fare qualcosa qualche possibilità per riuscire a lavorare il mio non è un lavoro urgente è peggio chi trasporta medicinali chi ha delle situazioni un po' più pesanti rispetto alla mia sempre su Città 30 sta facendo discutere l'intervista proposta ieri da ETV a un agente della polizia locale di Bologna che si è dichiarato contrario ha criticato il provvedimento Città 30 oggi proprio su questo si è scatenata l'opposizione sentiamo penso che la zona individuata dal sindaco intanto sia eccessivamente ampia e che purtroppo possa non tenere in considerazione quelle che sono le esigenze di tutti gli utenti ha destato molto scalpore la nostra intervista all'agente della polizia locale di Bologna che critica il limite dei 30 km orari esteso a tutta la città qualcuno addirittura mette in dubbio che si tratti di un vero agente insomma in giro c'è chi crede è più probabile che si facciano interviste finte piuttosto che ammettere che in città ci sia effettivamente una opinione contraria in maggioranza a Bologna 30 lo schema ormai è che se qualcosa non piace si tratta di fake news dall'altra parte come era prevedibile la testimonianza dell'agente viene esaltata dall'opposizione in consiglio comunale che gli agenti di polizia locale siano alquanto perplessi rispetto a questa misura Bologna 30 che li vede protagonisti loro malgrado è cosa piuttosto nota d'altronde loro sanno cosa vuol dire garantire la sicurezza stradale in città realmente sanno che le misure calate dall'alto poco servono questo dimostra come questa amministrazione si sia mossa ancora una volta senza nemmeno sentire i suoi senza nemmeno sentire gli uomini e le donne sul campo gli agenti di polizia locale come gli autisti degli autobusi tassisti tutti quelli che si muovono in città ma anche le famiglie si lamentano per una misura che complica la vita il fatto che ogni giorno trapelino le localizzazioni delle pattuglie del giorno dopo dimostra come questa amministrazione si sia infilata in un vicolo cieco ancora su Bologna 30 arriva una proposta mediana di Ascom Confcommercio bene i 30 dentro le mura ma sui viali e fuori dalle mura tenere i limiti di 50 orari lo ha detto a ETV il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli sentiamo Giancarlo Tonelli Confcommercio Ascom Bologna non accetta Bologna Città 30 così come è stata pensata e attuata però cerca una soluzione mediana e propone i 30 km orari all'interno delle mura in via eccezionale in alcune zone fuori dalle mura vogliamo spiegare meglio questa idea? abbiamo immaginato una città nella quale all'interno dei viali di circonvalazione ci sia per tutti un provvedimento chiaro di velocità fino ai 30 km all'ora sui viali e in tutte le parti esterne della città si potrà arrivare fino ai 50 km all'ora questa è la nostra proposta poi esistono all'interno della parte esterna dei viali alcune cosiddette isole ambientali dove ci sono in sostanza le scuole gli ospedali o comunque delle situazioni nelle quali occorre un'attenzione particolare per coloro che stanno guidando quelle non solo le vorremmo mantenere ma valutare anche se ci fosse la necessità di inserirne qualcuna di nuove quello che noi vogliamo evitare assolutamente è di una città bloccata nella mobilità bloccata nel fatto che le famiglie le persone e anche le imprese alla mattina faticano moltissimo ad arrivare nei luoghi di lavoro puntuali è aumentata la percorrenza delle strade crediamo che in questo momento ci sia bisogno di buon senso anche di natura amministrativa quali sono le segnalazioni che gli associati fanno ad Ascom sono state diverse ce n'è una che riguarda prima di tutto i loro clienti che hanno segnalato una difficoltà nel leggere con chiarezza i divieti non sanno se possono stare ai 30 o al massimo ai 50 nel nostro mondo tutte le consegne e le vendite legate al fresco alla mattina si sono trovati in una situazione oggettiva in cui la clientela lamenta questi problemi per recarsi con tranquillità e puntualità sui posti di lavoro e poi di conseguenza dopo anche a fare la spesa in più questo provvedimento si è andato a sommare a quelli che erano i cantieri che si erano già aperti per il tram a quelli che stanno partendo per il passante e a quelli che erano già aperti per altre ragioni penso per esempio ai lavori al Ponte Lungo avete già parlato con il sindaco Lepore di questa proposta alternativa o comunque mediana avete già avuto una risposta una reazione ne abbiamo parlato con lui ne abbiamo parlato con l'assessore Bugani ora siamo in attesa di risposte all'interno delle quali si stia valutando quelle che sono le situazioni che andranno a svilupparsi anche nei prossimi giorni ora voltiamo pagina passiamo all'argomento che teneva banco maggiormente in città prima di Bologna 30 cioè le condizioni della torre Garisenda prosegue infatti a pieno ritmo l'allestimento della cintura protettiva intorno alla Garisenda che fa parte dei primi interventi per la messa in sicurezza della torre sono arrivate infatti oggi nuove strutture per andare a completare la barriera che sarà zavorrata e ancorata al suolo a tutela degli edifici che si trovano accanto al monumento questa sarà utile anche durante i lavori per il restauro della Garisenda come comunicato dal comune in alcuni momenti per il posizionamento dei container il passaggio dei pedoni potrà essere sospeso su piazza di Porta Ravegnana l'alternativa sarà percorrere la galleria a quaderni nelle immagini vediamo proprio l'allestimento di questa cintura protettiva che è avvenuto nella giornata di oggi restiamo in tema di mobilità cittadina il car sharing corrente di Tiper si rinnova sono in arrivo 300 nuove Volvo 100% elettriche alla presentazione di questa nuova flotta c'erano il sindaco Lepor e la presidente di Tiper Giuseppina Gualtieri il car sharing elettrico bolognese corrente rinnova la sua flotta con le nuove auto Volvo mentre al centro delle discussioni sulla mobilità c'è il limite dei 30 km orari oggi è arrivato il lancio della 300 e X30 la nuova vettura 100% elettrica di casa Volvo saranno 300 le Volvo 100% elettriche modello X30 a disposizione del servizio sharing di Tiper su Bologna Casalecchio di Reno e Imola per chi è abbonato al trasporto pubblico i primi 41 minuti sono gratuiti per quanto riguarda i prezzi non ci sono costi di registrazione car sharing costa 0,34 euro al minuto 18 euro l'ora e 59 il prezzo per la giornata intera se si ha un abbonamento annuale Tiper i prezzi diventano 0,24 euro al minuto 12 all'ora e 39 per un giorno alla presentazione della nuova auto a Palazzo il sindaco Matteo Lepero e la presidente di Tiper Giuseppina Gualtieri abbiamo lavorato per tempo con grande impegno per una partnership nuova all'insegna della sostenibilità che vuol dire non solo car sharing elettrico che abbiamo già avviato come sapete in città dal 2018 ma anche un car sharing elettrico di maggiore qualità sia in termini di riduzione di impatti ambientali ovviamente parlando di elettrico ma anche di qualità del servizio perché è la macchina che abbiamo scelto a tutte le qualità in termini sia di sicurezza e di avanguardia dal punto di vista innovativo per dare veramente un servizio all'altezza diciamo delle sfide del futuro sulla sostenibilità a tutto campo car sharing a Bologna rappresenta con questo progetto il nuovo modello per il car sharing a livello nazionale Volvo insieme a Tiper investe su un progetto che permette di avere 300 auto molto confortevoli accessibili e grazie all'abbonamento di fatto la gratuità per chi utilizza l'auto a livello urbano ricordo che grazie all'abbonamento di Tiper non solo si avrà questa di fatto scontistica gratuità per l'ambito urbano ma anche la possibilità di utilizzare il treno gratuitamente quindi da giugno il treno a Bologna in ambito urbano passerà ogni quarto d'ora e si potrà utilizzare gratuitamente per chi ha l'abbonamento dell'automus abbiamo parlato tanto di sicurezza stradale nel corso del telegiornale purtroppo c'è la notizia di un grave incidente avvenuto questa mattina sulle strade del Bolognese un uomo di 33 anni è rimasto ferito verso le 7 sulla provinciale San Benedetto fra San Pietro in Casale e Pieve di Cento alla guida di una Volkswagen Golf percorrendo una semicurva in un tratto nel territorio di Castello d'Argile per cause da accertare ha sbandato ed è uscito di strada l'auto è finita in un canale dove si è ribaltata quanto pare il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dove è stato trovato dai soccorritori sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco e polizia locale Reno Galliera il 33enne che abita a Galliera è stato caricato sull'elicottero del 118 portato al Maggiore di Bologna dove è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata dinamica precisa e cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale Reno Galliera restiamo in cronaca è stato un tentato omicidio quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri verso le 18 in via Matteotti in piena Bolognina un ragazzo tunisino di 17 anni è stato accoltellato da un coetaneo già identificato e arrestato dalla polizia chi è passato alle 7 di ieri sera in via Matteotti a Bologna si è trovato davanti la scena di un crimine un tratto di portico isolato dalla polizia sangue a terra e gli agenti della scientifica impegnati in un lungo sopralluogo per raccogliere tracce e indizi quello che era successo è stato un tentato omicidio accoltellate fra minorenni entrambi tunisini il ferito è un 17enne ospite di una comunità per minori di Bologna colpito da diversi fendenti all'addome a un braccio e a una gamba anche chi lo ha aggredito è un 17enne rintracciato e arrestato dalla polizia nel giro di poche ore a quanto pare si sarebbe trattato di una lite che è rapidamente degenerata nell'accoltellamento avvenuto verso le 18 quando in via Matteotti c'erano ancora negozi aperti e tanta gente per strada l'allarme al 118 o alle forze dell'ordine è stato dato subito e il 17enne ferito è stato portato in ambulanza all'ospedale maggiore è ricoverato in rianimazione non in pericolo di vita l'autore dell'aggressione si era dato alla fuga ma le immediate indagini svolte dagli investigatori della squadra mobile e dai colleghi delle volanti hanno permesso identificarlo in fretta anche ascoltando alcuni testimoni e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona anche lui 17enne anche lui tunisino è stato rintracciato in una comunità per minori dove era tornato dopo l'aggressione è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di tentato omicidio e portato all'istituto penale minorile di via del Pratello il movente della lite degenerata in accoltellamento è ancora da chiarire l'episodio tocca un quartiere la Bolognina che da tempo è sotto la lente per i suoi problemi di sicurezza e dove le forze dell'ordine hanno recentemente intensificato i controlli con operazioni cosiddette ad alto impatto la stessa polizia fa sapere che nell'ultima settimana il bilancio di questi servizi è stato di quasi mille persone identificate di cui 440 stranieri due gli arresti che riguardano un cittadino tunisino e un nigeriano entrambi accusati di spaccio di droga in tutto sono stati trovati e sequestrati circa sei etti di stupefacenti fra hashish cocaina ed eroina sempre nel giro di sette giorni ci sono state poi 11 persone denunciate per vari reati e oltre 50 esercizi commerciali controllati in queste ispezioni la polizia amministrativa ha sequestrato 42 kg di prodotti alimentari non in regola una maxi evasione fiscale da quasi un milione di euro è stata scoperta negli accertamenti svolti dalla guardia di finanza di Bologna su bed and breakfast e affittacamere nel centro cittadino indagini fatte in collaborazione con il comune sentiamo dagli annunci sulle piattaforme digitali di pronotazione per soggiorni e affitti brevi in centro a Bologna agli accertamenti della guardia di finanza che hanno portato alla scoperta di una evasione di oltre 950 mila euro i finanzieri del comando provinciale impegnati in attività di contrasto alle locazioni irregolari e in nero hanno individuato due bed and breakfast uno gestito da una donna di origine tailandese e l'altro da un italiano situati in centro vicino al parco della Montagnola che offrendo servizi di pernottamento e prima colazione in cinque anni hanno omesso di dichiarare al fisco redditi per oltre 700 mila euro ai turisti proponevano anche pacchetti promozionali in occasione delle manifestazioni organizzate in fiera le fiamme gialle hanno anche controllato un affittacamere sempre in centro che negli ultimi anni non aveva dichiarato al fisco redditi per circa 250 mila euro in collaborazione con il comune di Bologna la finanza nel corso dello scorso anno ha svolto certamente nei confronti di tre società che negli ultimi tre anni hanno gestito oltre 50 appartamenti di proprietà di privati concessi in affitto breve mediante annunci sui portali digitali e nei confronti di 13 tra bed and breakfast e affittacamere che operavano secondo le fiamme gialle in nero o che dichiaravano stando alle indagini meno della metà dei propri guadagni i controlli hanno consentito a oggi di recuperare la tassazione oltre 3,6 milioni di euro il contrasto al fenomeno degli affitti in nero e delle locazioni brevi e irregolari spiega la finanza in una nota è da inquadrare come attività complementare a quella svolta dalla guardia di finanza anche a livello centrale nei confronti dei grandi colossi del web e risponde alla duplice esigenza di tutelare il mercato delle locazioni immobiliari a breve e lungo termine per proteggere gli studenti e i lavoratori in cerca di sistemazioni abitative regolari e di costruire un presidio di legalità fiscale nello specifico settore che risulta anche a Bologna in costante crescita negli ultimi anni alla guardia di finanza per le indagini i ringraziamenti della vice sindaca con delega alla casa Emily Clancy riportare i profili di queste attività alla legalità ha detto in una nota ha un importante effetto deterrente verso chi sceglie di speculare in una situazione di tensione abitativa già alta ci fermiamo un istante per la pubblicità tra poco sei un proprietario immobiliare? hai problemi con il tuo inquilino? devi fare un contratto di affitto? hai problemi con il tuo amministratore di condominio? vieni a Confabitare risolveremo i tuoi problemi Confabitare in questi anni ha assistito migliaia di proprietari immobiliari li ha seguiti in tutte le problematiche legali fiscali, tecniche e condominiali legate alla casa sei un proprietario immobiliare? iscriviti a Confabitare chiama il numero 051 27 04 44 o vieni direttamente in sede a Bologna siamo in via Marconi 6 barra 2 Confabitare la soluzione ai tuoi problemi immobiliari Aspirnova Group progetta, costruisce, installa da oltre 30 anni Aspirnova opera nel settore dell'aspirazione industriale progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbioleose prodotti da diverse lavorazioni li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica e straordinaria le nostre mission sono salute, sicurezza sul lavoro, ambiente Aspirnova Group i sarti degli impianti di aspirazione Da materassi Barone e specialisti del riposo dal 1967 sono iniziati i saldi sconti fino al 70% su tutti i materassi reti e letti delle migliori marchi al mondo più di 600 referenze in pronta consegna scontatissime con la possibilità di pagarle a rate senza interessi approfitta della consegna gratuita e dello smaltimento del vecchio e se non ti trovi bene hai 100 notti per poter sostituire il materasso vieni a farci visita presso uno dei nostri store materassi Barone lo trovi a Castel San Pietro Terme Bologna Caselecchio di Reno Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine per la cura e la bellezza dei tuoi capelli in una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di estetica Lara rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram Magica Parrucchieri ed estetica Lara via Procaccini 10 telefono 051 36 16 12 051 36 16 06 Ciao tesoro fuori il freddo è veramente pungente lo so ma per fortuna grazie alla ditta Immerservice in casa nostra c'è un calore e un clima perfetto Immerservice da oltre 20 anni garantisce benessere comfort alla tua abitazione chiamateci allo 051 32 08 28 nei mesi invernali ci siamo anche la domenica mattina Immerservice il meglio servito meglio Sei un proprietario immobiliare? Hai problemi con il tuo inquilino? Devi fare un contratto di affitto? Hai problemi con il tuo amministratore di condominio? Vieni a Confabitare risolveremo i tuoi problemi Confabitare in questi anni ha assistito migliaia di proprietari immobiliari li ha seguiti in tutte le problematiche legali fiscali, tecniche e condominiali legate alla casa Sei un proprietario immobiliare? Iscriviti a Confabitare Chiama il numero 051 27 04 44 o vieni direttamente in sede a Bologna Siamo in via Marconi 6 barra 2 Confabitare la soluzione ai tuoi problemi immobiliari Di nuovo insieme con il telegiornale di ETV ancora cronaca la polizia ha infatti denunciato un ladro accusato di avere compiuto diversi furti nella palestra di una scuola di Bologna è stato individuato anche con la collaborazione degli stessi studenti Sentiamo L'aiuto degli studenti per individuare un ladro che aveva fatto razzia di telefonini e altra merce a scuola a quanto pare è stato fondamentale lo racconta la stessa polizia che ha denunciato un 35enne italiano già con vari precedenti per alcuni furti compiuti negli spogliatoi della palestra dell'istituto Belluzzi-Fioravanti di via Cassini a Bologna è stato smascherato anche con la collaborazione di alcuni degli alunni derubati che attraverso la geolocalizzazione GPS hanno scoperto dove si trovava uno degli smartphone sottratti dal ladro a chiamare il 113 è stata la direzione della scuola la vicepreside ha spiegato che dalla palestra erano spariti diversi oggetti dei ragazzi fra i quali smartphone, denaro e auricolari mentre un docente ha raccontato di avere sorpreso all'interno dell'edificio un estraneo che era stato prontamente invitato a uscire a quel punto sono entrati in scena gli studenti che hanno localizzato uno dei telefonini rubati in un condominio di via Canonica nel centro storico lo hanno detto alla polizia e poco dopo gli agenti sono andati a controllare trovando il 35enne che corrispondeva alla descrizione dell'intruso allontanato poco prima dalla scuola l'uomo si è reso disponibile a riconsegnare aere furtiva due smartphone, un astuccio scolastico e un paio di auricolari ma nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche altra merce e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la sua eventuale responsabilità anche in altri furti avvenuti al Belluzzi-Fioravanti nei giorni precedenti Siamo in chiusura non c'è tempo per altri servizi grazie per essere stati con noi buona serata E-TV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda www.e-tv.it